ben a tutti i ragazzi bentornati sul nostro canale del nostro nuovo video come al solito io sono gabrie io birillo oggi andremo a fare vedere il nostro nuovo liquido vai birillo facci vedere allora si chiama the angry mackings sarebbe un dolcetto con fritto e crema di mirtilli il liquidozzo non so se 70 30 80 20 da cloud invernale questa bella fumacera andiamo a fare la prova di questo liquidozzo ultime baci di questi liquidi che poi non si troveranno più preso la svopo caffè ricordiamo marina di carara e la spezia è andata a trovare grande cri allora vai gabrie col ghani io sempre con la tesla invader l'apocalips buono ci sente il bombolone si il fritto e poi poi sente la marmellata che c'è dentro di mirtilli di mirtilli bello dolce questo qua io do notte e mezzo anche 9 anche 9 sono i nostri liquidozzi questi pagabili per l'inverno noi lo consigliamo se lo ho trovato ancora in giro a chi piace a chi piace perché il fritto magari dopo un po forse può smagare però a me piace ti lascia la bocca dolce da cloud si brucia bene per l'inverno va pure ne fa tanto quando c'è il freddo sei tranquillo con la tua boxetta allora per averlo dello swap è tutto se vi vi è piaciuto lasciate un like iscrivetevi al canale ricordatevi che abbiamo la pagina su facebook e su instagram iscrivetevi in tanti tanti che stiamo salendo siamo già un buon numero iscrivetevi anche al nostro canale noi vi aspettiamo certo con nuove video di box liquido che possiamo prendere noi faremo le nostre decensure allora ciao iscrivetevi al canale